Il Regno Unito ha sospeso gli accordi di estradizione con Hong Kong con effetto immediato. Con l'aumentare delle tensioni con Pechino, il segretario agli esteri del Regno Unito, Dominic Raab, ha dichiarato che il governo è preoccupato per la nuova legge sulla sicurezza introdotta dalla Cina, ma anche per le presunte violazioni dei diritti umani contro la minoranza islamica uiguri. Alla Camera dei Comuni dichiara Dominic Raab, ministro degli esteri britannico. Il governo ha deciso di sospendere il trattato di estradizione immediatamente e a tempo indeterminato. Rimane una notevole incertezza sul modo in cui la nuova legge sulla sicurezza sarà applicata in Cina. Vorrei solo dire questo alla Cina. Il Regno Unito sta guardando e tutto il mondo sta guardando. Un embargo sulle armi in vigore per la Cina nel 1989 sarà esteso anche a Hong Kong. Ciò significa che il Regno Unito non permetterà l'esportazione di armi che potrebbero essere usate per la repressione interna cinese. Pechino ha promesso una risposta risoluta se il Regno Unito si ritirasse effettivamente dagli accordi di estradizione. La nuova legge sulla sicurezza è stata introdotta da Pechino alla fine di giugno, creando nuovi reati che potrebbero costringere i residenti di Hong Kong ad essere processati nella Cina continentale. Londra ha già offerto un percorso privilegiato per la cittadinanza del Regno agli abitanti dell'ex colonia.